L'identikit di Zio Francesco nella prima parte dell'interrogatorio, il non possesso del cellulare di Guerrina Piscaglia nella seconda parte. Queste le principali informazioni che Gratian Alabi ha fornito al PM Marco Dioni della procura di Arezzo nell'interrogatorio fiume che si è svolto all'interno del carcere di San Benedetto su richiesta della difesa. Zio Francesco sarebbe un uomo africano sui 50 anni che parla francese, ha raccontato ai numerosi giornalisti l'avvocato Francesco Zaccheo, difensore di padre Gratian all'uscita dal carcere, spiegando, mentre si avvicinava all'auto, alcune dichiarazioni rese dal padre congolese al magistrato, mentre nella giornata hanno ripercorso tutto quel primo maggio del 2014, giorno della scomparsa di Guerrina. Il cellulare della donna Gratian ha dichiarato che non è mai stato in suo possesso, insomma nessuna ammissione, nessun cedimento, anzi la richiesta di indagare altrove, anche nei confronti del marito di Guerrina, Mirko Alessandrini, richiesta alla quale da lontano ha già risposto l'avvocato Francesca Faggiotto, dicendo che la vita del suo assistito è già stata scandagliata e nulla è stato trovato. Oggi dunque si è seglato un altro capitolo della vicenda della scomparsa della casalinga di Caraffello, Guerrina Piscaglia. Per quasi un anno, a partire dal settembre 2014, quando fu iscritto nel registro degli indagati, padre Gratian si era sempre avvalso della facoltà di non rispondere. In un primo confronto con il magistrato, l'interrogatorio durò ben sette ore con il religioso che all'epoca dei fatti era indagato per concorso in sequestro di persona e distruzione di cadaveri, difeso dall'avvocato Luca Fanzani. Oggi il cambio di linea difensiva si è concretizzato. È una giornata importantissima, aveva infatti dichiarato fin da questa mattina alle 9 all'arrivo al carcere di Arezzo l'avvocato Zaccheo. Se poi si rivelerà davvero una giornata importante, lo deciderà il PM Marco Dioni che a questo punto, verosimilmente, chiuderà in tempi brevi le indagini e chiederà il rinvio a giudizio. Dal canto suo l'avvocato difensore del padre congolese ha annunciato che lunedì depositerà l'istanza per ottenere gli arresti domiciliari. Spero Marco Dioni dovrebbe uscire a secondi anche l'avvocato Francesco Zaccheo, eccolo, ce l'abbiamo parlato, siamo in diretta, come è andata? La batteria, la batteria. Che cosa ha detto padre Graziano? Ha richiarito, ti chiedo che vuoi richiarire. Nello specifico ci riveli qualcosa? Ha parlato di zio Francesco. Cosa ha detto di zio Francesco? Ha scarito i punti di lui, ha fornito i punti di tutti. Come l'avrebbe raccontato? Chi sarebbe? Sarebbe un uomo bianco di colore? Chi sarebbe? Un uomo del nord. Quanti anni? Più bassi i microfoni, più bassi i microfoni. Quindi ha dato degli spunti per individuarlo, questo è stato di farlo trovare. Dove sarebbe questo zio Francesco? Adesso è la procura. Per quanto riguarda gli sms, gli sms e il telefonino? Il telefonino non ce l'aveva lui. Ha detto di non esserne in possesso. E gli sms? No, no, no. No, no, no. Siamo in diretta, scusate. Niente? No, no, no. Scusate, per quanto riguarda il telefonino di Guerri di Appunto, che cosa avrebbe detto? Padre Graziano. Quali erano i loro rapporti? Non l'avrà chiariti? Qual era il rapporto per le persone verrute? ragazzi non gli è stato appicciati però eccomi arriviamo qua lui finisce di pranzare alle 13 e 45 e 14 quindi esce alle due dalla canonica la guerrina non è mai andare in canonica da sola secondo lei questo interrogatorio ha convinto il PM? adesso presenterò l'istanza dei domiciliari la prossima settimana Ci hanno raccontato però di momenti di grande tensione tra Padre Graziano e il Pubblico Ministero? No, assolutamente no. Padre Graziano è stato serenissimo, siamo stati quasi otto ore, dalle nove stamattina alle nove e mezzo, quindi tutto tranquillo. Non si è mai contraddetto Padre Graziano? No, assolutamente no. La Procura chiederà un giudizio immediato? Questo non lo so, vedremo. Adesso vediamo il quadro della Procura. Quali altri punti avete toccato oggi? Tanti, tanti, tanti. Adesso valuteremo, presenteremo l'istanza lunedì. Va bene, scusate, grazie.